Siamo a Vaprio d'Arda in questa bellissima villa e voglio passare la parola al padrone di casa, al sindaco di Vaprio, che peraltro è il sindaco neo eletto, quindi complimenti per il nuovo incarico appena almeno di una settimana, anche noi a Berlio speriamo di avere presto un nuovo sindaco. Allora, buon lavoro e alla mia parola, sindaco Andrea Bezzi. Grazie, buongiorno a tutti. Prima di tutto io volevo ringraziare l'amministrazione precedente, che è il sindaco Orlandi, ex sindaco Orlandi, in prima fila e poi se è una pianosa con cari, che hanno molto contribuito alla realizzazione di questo evento. Questo è un bel evento, molto importante, e quindi sono molto contento di dare continuità. La cosa più bella è che è stata una cornice stupenda, questa è una villa, è uno dei 61 beni culturali sensibili dalla regione Lombardia a Vaprio d'Arda. Due considerazioni molto veloci sull'argomento dell'evento. Allora, si parla sostanzialmente dell'alta qualità, dell'alta qualità della cucina. La cucina italiana ha una caratteristica, che è fatta da pochi elementi, pochi ingredienti, con poche elaborazioni dal punto di vista tecnico. Quindi vuol dire che la cosa che viene valutata, che viene molto evidenziata, è proprio la qualità degli ingredienti. Quindi, qualità degli ingredienti vuol dire proprio il lavoro nel recupero di quelle che sono le cose che si mettono dentro. Se uno va a finire a che c'è dietro, vuol dire recuperare il territorio, andare a cercare delle vittime, andare a cercare delle vecchie piazze, delle cose. Quindi è bellissimo questo lavoro. L'ultima considerazione che volevo dire è puntare molto sulla qualità è un aspetto differenziante. Questo in qualsiasi settore, lo vedo anche nei misteri che faccio io, puntare sulla qualità è un elemento di differenziazione. Questo anche per competere sui mercati internazionali, miglio ancora sulla parte gastronomica.